Abe Grinders, oggi sono in compagnia dei Solaris. Ciao ragazzi e benvenuti su Grand On The Road. Come prima cosa vorrei soffermarmi sul nome della band, Solaris. In che modo il vostro universo è legato a quello creato da Lem nel suo capolavoro? La scelta del nome è nata da questo libro che abbiamo tutti in comune, che ci ha colpito tantissimo, per 61. E' un libro di fantascienza che è molto introspettivo, quasi filosofico. Mi piace pensare che chi ascolti noi abbia anche degli spunti extra musicali. Tipo come le costruzioni dell'oceano Solaris scambiano ed evolvono, il nostro pezzo può iniziare in un modo e finire totalmente in un'altra struttura senza per forza seguire schemi già predisposti. Un'altra cosa appunto, il tema tanto scientifico ma comunque anche introspettivo, è forse un modo che abbiamo di mettere in un genere che di solito è molto diretto, qualcosa di più ermetico, di più profondo. Non parlo neanche come se parlo. Siamo ormai così abituati all'invasione di produzione musicali straniere che la scelta di cantare in italiano a volte può quasi risultare rischiosa e controproducente. Quali argomentazioni vi hanno convinto a un cantato in italiano? Diciamo che il cantato in italiano ha una duplice attività. La prima è che comunque siamo in Italia, quindi il significato dei testi può essere più immediato agli ascoltatori. e la seconda perché volevamo cercare di fare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo andando a riprendere un po' quello che è la scena, anche se scena interna che mi piace usare, dell'alternative noise italiano per gli ultimi 10 anni. Per chi non vi ha mai ascoltati, che musica suonano i Solaris e perché bisognerebbe darvi un'opportunità? Beh, facciamo principalmente del noise e rock, diciamo. Un'opportunità, dai, va adatta a tutti, insomma. Quindi, neanche avrebbero, sicuro, sì. Prima a qualcuno piuttosto che a qualcun'altro, però. Sì, va bene. Perché si dovrebbe partire prima da voi piuttosto che, che ne so, un'altra band? Perché qua l'idea è molto bella. Per prima cosa. Cioè, se uno competiscono, non è che di scattare, no? Quando forse una competina viene... Avete messo le foto nel disco? No, non l'avete neanche... Certo, non l'avete neanche... Forse per quello. Non so se continuerà a venire, adesso che l'avete ricordato. Il vostro è un progetto particolare ed è difficile trovare una sola band a cui appostarvi con sicurezza. Voi a quale gruppo vi sentite più vicino? A mia tre, diciamo tutti una, e saranno tutti la stessa. No, la stessa, la stessa, la stessa, va bene. Ok, un, due, tre. Ma ne ho il suono! Nell'album ci sono un paio di spietate, di Fioravanti dei Post Vorta e di Nicola Ghezzi ai Cori. Come sono nate queste collaborazioni? Dunque, Andre è un amico da anni, ho sempre accostato la sua musica. Quando stavamo registrando si è offerto prima di prestarti l'amplificatore, poi un certo amplificatore. Bravo Andre che l'aiuto. Bravo Andre. Al che, ci siamo detti, perché piuttosto che un amplificatore non vieni a prestarsi te stesso e suoni qualcosa di bello sopra? E infatti in L'Eviatano ha fatto una traccia che è splendida. Per Nico passo la palla a Vado. Nico ha anche un amico di Umpani, un'app assieme in vari progetti, si occupano. E abbiamo chiesto quasi per un gioco, mi si è reso disponibile e mi è venuto a fare un paio di urma. E' stato divertente, mi faceva piacere averlo per quello che abbiamo passato assieme. Avete da poco presentato live all'Orizzonte degli Eventi per la prima volta. Come era agito la gente? Non ce l'aspettavamo. Troppa gente, per quelli che erano nelle nostre state attive. Poi siamo sociopatici, quindi... Quindi ha reagito troppo in sostanza? No, abbiamo fatto una data il 23 ottobre al Sidero per presentarlo. Era pieno, il disco è piaciuto. È stata una bellissima serata. Siamo molto soddisfatti, sicuramente. E la data con Helm e Ufo Mammoth, Ravenna, com'è stata? Un' incredia bomba. Un pianto, diciamo, serio rispetto a quello a cui siamo abituati. E' stato un uomo. Io pensavo di scrivere anche sul curriculum, però quando cerco la vuole... Sono cose che non... Cioè, auguriamo a tutti i gruppi. Poter suonare in parchi come... Come quello del Bronson. Come quello del Bronson. E' una scelta obbligata, nel senso che naturalmente è il primo lavoro che produciamo. Comunque cantiamo in italiano, quindi etichette di altre nazioni non avrebbe senso. Magari, cioè, dipende, però comunque... Pensa che sia più difficile, che siano interessate. Sì. Cioè, magari possono essere più interessate etichette italiane, diciamo, che stranieri. E, però, sì, autoproduzione alla fine è una scelta obbligata, perché... Vabbè, è... Chiero, se qualcuno volesse finanziare con 2-3 mila euro un prossimo disco, noi siamo qui. Già. Per scriverci e trovate tutte le informazioni sulla nostra parte. Siamo già con il tempo. Sì. Passiamo a tutti. L'orizzonte degli eventi sta andando a Ruva. Avete già in mente una ristampa? Siamo in mente una ristampa con l'etichetta della donna, l'etichetta famosa per fare un diagramma, l'etichetta di persone belle, belle persone, sia fisicamente che psicologicamente. Sì. 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 Si spera comunque di fare delle date. Arrivare fino a Gennaio. Sì. Magari fare... Più del Gennaio intanto. Esatto. Beh, almeno arrivare a Maggio. Però insomma, fare un nede pieno... Ci potrebbe essere qualcosa di particolare a Maggio. Ci potrebbe essere qualcosa di particolare. La paride è una maga, ha detto la Maggio. Sì. E mi ha detto che a Maggio ci serve qualcosa di nede particolare. Ah sì? Sì. Noi abbiamo finito. Grazie per il vostro tempo. Potete chiudere l'intervista come preferite. È la fine. Ragazzi, io... E' il cicca cicca ciacca. E' la fine perfuma anche.